3 giugno 1944 Caro Wilson, devo ammettere che quando ci siamo salutati in Italia qualche giorno fa, non credevo che avremmo diviso il campo di battaglia così presto. Sono contento di sapere che sarei vicino durante la fase finale dell'assalto. Vorrei soltanto sapere chi di noi due metterà piede per primo in suolo francese, anche se oso anticipare che il fortunato sarò io. In ogni caso spero che ti vada tutto bene. Dopo i nostri successi in Africa e in Italia, mi piacerebbe che entrassimo insieme a Berlino. Per ora mi accontenterò di Parigi. Buona fortuna, il tuo amico James. Quartier generale, qui Charlie. Abbiamo terminato l'inserimento. Riposo. Bene soldati, questa missione è di vitale importanza. Tutto l'impegno degli alleati nell'attacco all'Europa dipende dalla riuscita dell'operazione. Tenetevi conto, ma non perdete il controllo. I due punti sono fondamentali nella fase successiva allo sbarco, quindi buona fortuna, signori. Aspettiamo ordini. Aspettiamo ordini. Avanti! Continuiamo ad avanzare! Chi ha bisogno di aiuto? Muoviamoci! Avanti! Andiamo! Sì? Andiamo! Cosa c'è? In fretta! Sì? Chi ha bisogno di aiuto? Chi ha ferito? Muoviamoci! In fretta! Avanti! Di corsa! D'accordo. Fuoco! Mi hanno colpito! Andiamo! In marcia! In fretta! Sì? Ci sparano! Sono pronto! Avanti! Sì, signori! Quali sono gli ordini? Attacchiamo! Alla carica! Ci stanno attaccando! Aspettiamo ordini. Andiamo! Quali sono gli ordini? Di corsa! Aspettiamo ordini. Si tengono sotto tiro! Scusi, cosa c'è? Avanti! Quali sono gli ordini? Sono pronto! D'accordo! Andiamo! Si sparano! Eccomi! Muovetevi! Cosa c'è? È lontano? Caricate! Sono pronto! Carica! Avanzate! Ci tengono sotto tiro! In marcia! Al suo servizio! Si sparano! Muoviamoci! Di corsa! Muoviamoci! Muoviamoci! Andiamo! Subito! Muoviamoci! Avanti! In marcia! Si sparano! Al riparo! In fretta! Alla carica! Mi hanno colpito! Avanti! Avanti! Fuoco! Mi hanno colpito! In fretta! Mi hanno colpito! Muoviamoci! Cosa c'è? Aspettiamo ordini. C'è? E... Andiamo! Certo, signore! Avanzate! Eccomi! Subito! Bene! In marcia! Ci tengono sotto tiro! E non possiamo lasciare che facciano saltare in aria a giù! Sì, signore! Aspettiamo ordini! Al suo servizio! Chi è il ferito? Scusi? Sì? D'accordo! Gliela faremo pagare! Sì, signore! Va tutto come previsto! Scusi! Obiettivo designato! Sì? Fuoco! Sì, signore! Non ci scopperanno! A riparo! Carica! Scusi? All'attacco! Al suo servizio! Mi hanno colpito! Quella postazione è irraggiungibile! All'attacco! In marcia! Sì? Cosa c'è? Caricate! Avanti! Chi è ferito? Soccorso in arrivo! Tengono sotto tiro! D'accordo! Quali sono gli uomini? Cos'è successo? Andiamo! Andiamo! Sì? Non ci scapperanno! Cosa c'è? È l'ora della verità! Dai! Dai! Di corsa! Benissimo! In marcia! Sì, signore! Andiamo! Scusi? Bene! Panzer! In marcia! Subito! Al suo servizio! Certo, signore! Andiamo! Scusi? Subito! Sì! D'accordo! Sì! Muovetevi! Muoviamoci! Cosa c'è? Sono pronto! In marcia! Sì, signore! Soccorso medico al vostro servizio! Subito! Cosa c'è? Avanti! D'accordo! In fretta! Al suo servizio! Fatemi passare, sono un medico! In marcia! Benissimo! In marcia! Al suo servizio! Subito! D'accordo! Sì! Fate fuoco! D'accordo! Scusi? Sì, signore! Disparano! D'accordo! Al riparo! Al riparo! Ci stanno attaccando! Muoviamoci! Cosa c'è? Sto ritrocedendo! Infadroniamocene prima che se la spieghi! Signore, abbiamo distrutto tutta la unità! I tedeschi non sospetteranno neanche che pensiamo di rimanere qui per un po'. Eccellente lavoro, sergente! Sarà un piacere raccomandare personalmente lei e i suoi uomini! Sì!